Che cosa facciamo quando non conosciamo la risposta a un quesito che ci martella? Andiamo a cercarla su YouTube. Nel video di oggi vado a dare delle risposte un po' più esaustive ad alcune delle vostre domande. Questo è un format che ho già portato in precedenza. Nel momento in cui registro questo video non so ancora i risultati definitivi di quel primo video, quindi me la sto rischiando a farne un secondo senza essere sicuro che poi vi piaccia. Però mi prendo questo secondo tentativo così su due video capiamo se queste risposte un po' più lunghe possono interessare a chi mi segue da casa. Ciao a tutti amici bentornati o benvenuti sul mio canale se questa è la prima volta. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Invito chi fosse qui per la prima volta a iscriversi subito al canale. Nel corso di questo video vado a dare delle risposte a delle domande che mi hanno fatto gli utenti da casa. Prima di cominciare però vorrei introdurvi una collaborazione che è imminente perché arriverà presto sul canale con KNF Concept che mi ha mandato tre filtri per fare fotografia notturna per cui nei prossimi episodi, non necessariamente i prossimi subito dopo questo video, ma insomma nelle prossime settimane parleremo esaustivamente di questi tre filtri che ovviamente ho scelto io quindi non mi sono fatto mandare roba a caso. Gli ho detto mandatemi tre cose che già mi interessano, che già mi piacciono. Andremo a vedere come si comportano e quindi se mi piacciono effettivamente anche nella resa e andremo a vedere che cosa si può ottenere con questi tre diversi filtri. Ma andiamo a incominciare con la prima domanda che vado a riassumervi perché è veramente lunghissima. Stiamo parlando della fotocamera Sigma FPL con un 85, un 35 luminoso e un 24, un 21. Quali sono i dubbi? Non ho capito se mi sono lasciato attirare dai dati di targa e forma filosofia della Sigma. Sembrerebbe un'ottima macchina ma nessuno le parla, quindi sospetto. Allora, non ne parla nessuno, non ne parlo nemmeno io ma per un motivo semplicissimo. Sigma storicamente è un brand che si occupa di lenti di terze parti, quindi ha tutto un suo tipo di mercato. Si parla delle ottiche di Sigma, è difficile per fotografi in generale. Per me per primo sarebbe difficile entrare nel mondo fotografico Sigma perché io ho già tutto un corredo fatto e finito di strumentazione Canon, quindi difficilmente vado a comprarmi un prodotto di quel tipo. Tutti i creator che operano in questo settore sono più o meno al mio stesso punto di cottura, quindi hanno già tutto il loro corredo e anche loro difficilmente vanno a prendersi una fotocamera Sigma. Sigma, se sei in ascolto e se vuoi mandare a tutti quanti, me compreso, la fotocamera in questione da testare, lo facciamo comunque molto volentieri. Però ecco, difficilmente ce la compriamo. Quindi io non ti so dire com'è quella fotocamera. Sono convinto che Sigma comunque, non potendosi permettere di perdere la faccia su un prodotto che nessuno gli ha chiesto, sono convinto che abbiano fatto comunque un buon lavoro con tutti dei problemi di ecosistema e di esternalità di rete. Cioè chi fa fotocamere da vent'anni, come Nikon e Canon, ha un ecosistema tale per cui non ti manca mai niente. Chi entra adesso avrà delle ottiche, alcune compatibili, magari altre no, avrà un ecosistema un po' più limitato e avrà un know-how un po' più limitato sulla costruzione di sensori e di processori. Quindi la macchina può essere buonissima. Il mio consiglio è sempre, prima di comprare, vai in negozio e provala perché bisogna anche sentirla in mano. Magari la macchina sulla carta è bellissima, però poi in mano non ti sta bene, non ti piace l'ergonomia e quindi è anche inutile proseguire nel discorso. Seconda parte della domanda. Sono troppo fuori dal giro per sapere quali sono le ottiche che funzionano per davvero. Qualche nome, escludendo le solite e immortali affascinanti lights, allora le ottiche secondo me funzionano tutte. Bisogna capire che tipo di performance vuoi, perché sicuramente se prendi un'ottica da 150 euro quell'ottica non è che non funziona, funziona benissimo. Solo che sarà più lenta a mettere a fuoco e avrà un'immagine più morbida e magari sarà più buia. Se spendi 3500 euro per la stessa identica lunghezza focale avrai un'apertura più che decente, magari anche una grandissima apertura come un f1.2, avrai una nitidezza e una qualità costruttiva con cui chiaramente un'ottica più basica non può competere. Dipende molto da che cosa ci devi fare, perché un conto è ci lavoro o sono ricco, perché c'è anche quello, e allora mi compro il top del top. Un altro conto è un gioco, è un hobby, è un passatempo, allora magari uno non vuole spendere certe cifre impegnative. Ci sono delle ottiche che si collocano anche nelle fasce intermedie, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Le ottiche funzionano tutte, danno però risultati diversi. Chiaramente più la vuoi bella e più costerà. Se vai sulla fascia intermedia di solito ti trovi bene, perché non saranno né delle schifezze, né delle ottiche super mega iperprofessionali, però saranno comunque ottiche che funzionano. Terza parte della domanda, questo è interessante, sono davvero un asino sulla postproduzione digitale. In analogico usavo un sistema zonale in bianco e nero e al 90% usavo Kodachrome. Devo sul serio imparare a usare Photoshop? C'è qualche base teorica per partire bene? Imparare Photoshop oggi? Ma dipende da cosa si intende per imparare Photoshop, eh? Perché Photoshop per cambiare il cielo, per cambiare lo sfondo, per togliere le occhiaie, per rimettere i capelli a chi li ha persi, per togliere la pancia, per ingrossare le spalle? Quello, io ti direi anche no, non è obbligatorio diventare uno smanettone del PC. Non è assolutamente obbligatorio, perché poi un conto è, tu mi dici voglio fare fotografia. Fare fotografia è una cosa, fare lo smanettone è un'altra cosa. Io ho provato a fare entrambe le cose, eh? Fare lo smanettone non mi piace. Sono capace di farlo, se c'è una foto che ha bisogno di quella roba lì la so fare, la posso fare, ma non mi piace. Io preferisco fare fotografia, preferisco che sia giusta subito. Poi io cerco di farla giusta subito, se c'è qualcosa di sbagliato lo sistemo, quindi metto insieme il meglio dei due mondi, quando ci riesco, quando mi lasciano lavorare come voglio io. È obbligatorio imparare a usare Photoshop? Secondo me no, però sei molto limitato se non lo fai. Perché se tu non impari a usare Photoshop, significa che devi delegare la postproduzione alla macchina. Quindi dirai alla macchina, scatta già in JPEG, perché io non ho voglia di fare la post, quindi la macchina ti tirerà giù un file già pronto. La postproduzione non è che non c'è stata, c'è stata lo stesso, perché la macchina scatta in DNG o in RAW o in NEF o quello che è. Quindi la postproduzione c'è stata, solo che tu hai detto alla macchina, falla tu, che io non sono capace. E quindi la macchina ha fatto del suo meglio e ti ha tirato fuori un file con una gamma ridotta, con le luci non recuperate, con i colori che potevano essere meglio. Photoshop da smanettoni è diverso da Photoshop per lo sviluppo digitale. Cioè lo sviluppo digitale significa, è come lo sviluppo di una volta. Lo sviluppo di una volta tu usavi delle sostanze per sviluppare il tuo negativo e tirar fuori la foto. Adesso a computer tu stai facendo la stessa cosa, solo che invece di versare delle sostanze nelle vaschette e agire sui tempi di posa, stai muovendo degli slider, stai muovendo delle levette a schermo e questo procedimento ti dà lo sviluppo digitale. È la stessa cosa, non è brutto, non è turpe, non è barare, è semplicemente usare il software per tirare fuori dei dati che esistono nel tuo file della fotografia, ma che la macchina fotografica di per sé non tira fuori. Quindi quei dati esistono, la macchina fotografica ti fa vedere un'anteprima che serve giusto per avere la referenza visiva di che foto stai guardando. Poi se tu non fai la postproduzione sul negativo digitale, ti esporti quell'anteprima di prova e la foto è meno bella di quello che avrebbe potuto essere. La buona notizia è che, dici, imparare Photoshop, oddio chissà quanta roba c'è, imparare Photoshop da smanettone è un universo e non ne esci più, ma imparare Photoshop per lo sviluppo sono due cavolate. Hai un modulo di sviluppo con dei fader, luci, bianchi, neri, ombre, contrasto, esposizione, sono veramente cinque fader in croce, dopo c'è la parte sul colore, tonalità, saturazione, tutte quelle robe lì, ma il più delle volte quelle puoi anche non toccarle se ti piace la color science della fotocamera che stai utilizzando. Io lo tocco poco il colore, perché usando Canon ho dei colori fantastici già in camera, l'ho scelta anche per quello, quindi io ho dei colori che mi piacciono già molto, ho già in camera e quindi li tocco poco in post-produzione, li lascio quasi sempre così come sono, al massimo regolo la temperatura del punto di bianco. Sono tutte cose di cui ho già parlato sul canale, quindi se vuoi un'infarinatura trovi roba anche sul mio canale, ma ci sono canali molto più belli del mio come PSD Box e Piximperfect, che sono secondo me i due canali più belli che parlano di Photoshop e di post-produzione, li trovi tutto lo scibile. Passiamo a un'altra domanda. Mi piace fotografare a limello amatoriale, ma da quando viaggio preferisco essere leggero, infatti negli ultimi viaggi mi sono portato solo il mio iPhone 13. Però quando guardo le foto in un secondo momento sullo schermo del PC, la differenza di colore e i dettagli tra le foto si vedono, anche perché il telefono scatta solo in JPEG e le reflex invece scattano in RAW. Sono indeciso per l'acquisto perché voglio avere un prodotto piccolo, compatto e che si porti in giro facilmente, piuttosto che comprarmi un iPhone Pro, che considero sempre un ottimo telefono per le foto e imbattibile per i video, ma rimane sempre un cellulare. Questo è interessante. Allora, in questo caso io la prima cosa che direi è vatti a vedere il video che ho pubblicato qualche settimana fa su Canon Powershot G7X Mark III. È una piccola fotocamera e videocamera compatta della serie G. Io stesso ho la G7X Mark II qui. Le compro, io le compro quelle robe lì perché mi piacciono, quindi non vi sto proponendo una roba che mi hanno mandato in cambio di soldi. Ah, intanto non ho preso soldi. In secondo luogo, quella macchina, io ne ho comprata una, quella successiva è ancora più bella. Ha una resa che mi ha veramente convinto e me la sento di consigliarla proprio per questa tipologia di situazione in cui vogliamo qualcosa di piccolo, leggero, ma che abbia una performance soddisfacente. Secondo me questa macchina ha una performance che è molto soddisfacente. Poi qualcuno giustamente ha detto, eh vabbè ma costa quasi 800-900 euro, quindi costa comunque tanto. Ragazzi, purtroppo, bello e economico non possono stare nella stessa frase a meno che non li separi una negazione. Quindi se vogliamo una cosa bella e economica, scordiamocelo. Possiamo avere una cosa costosa e bella, oppure una cosa economica ma che ci lascia sempre con me, con quel mezzo, mezza insoddisfazione. Secondo me acquistare una fotocamera di questo tipo, come la Powershot, spendiamo comunque un po' di soldi, è meno di un iPhone Pro, spendiamo comunque un po' di soldi, però è una macchina che ci dura diversi anni e che ha una performance che è vicina a quella dell'iPhone, lievemente superiore, però ci permette anche di zoomare, ci permette anche di fare cose in manuale, cose prettamente fotografiche e ci permette di scattare con un bel file RAW che possiamo poi maltrattare in post-produzione. Quindi i vantaggi sono questi. Dobbiamo decidere se è per le nostre tasche oppure no. Io vi parlo di questa, perché mi hanno mandato questa, ma ci saranno altre macchine, magari anche di altri brand che fanno la stessa cosa, magari con caratteristiche che vanno più a braccetto con quello che è il nostro stile. Questo ognuno è libero di esplorare. Secondo me può essere una buona soluzione. Vi propongo quello che so. Poi ovviamente ci sono tante cose che non so, ci saranno soluzioni che io non contemplo, perché appunto non le conosco. Passiamo alla prossima domanda. Questa è interessante perché è sul flash. Domanda. In esterno, con condizioni buone di luce, sarebbe opportuno per fare ritratti utilizzare il flash? Per come è posta la domanda, in esterno, con condizioni buone, perché usare il flash se le condizioni sono buone? Cioè, se le condizioni vanno bene così, io serenamente non lo uso il flash. Io uso il flash per due motivi. Se le condizioni non sono buone, e questo è il caso più brutto che mi trovo a fronteggiare, condizioni fanno schifo, allora devo per forza usare della luce ed è un palliativo. Questo è un caso. Oppure uso il flash per fini creativi. Quindi magari metto la mia persona col sole alle spalle, magari il sole sta facendo questo da dietro, e io metto un flash qui e illumino la mia persona da davanti. Effetto molto fashion, molto patinato, molto da rivista, bello. A quel punto è un utilizzo creativo del flash all'aperto. È difficile, ci vuole un assistente, un treppiede, qualcuno che ti tenga il flash, bisogna organizzarlo, non viene a caso. Non puoi pensare di essere in giro in vacanza e dire ciao vi faccio una fotografia col flash, col sole di... Non è facile, bisogna pensarla un attimino. Però sono due casi molto distinti, secondo me. Cioè siamo all'aperto e la situazione è buona. Io non mi metterei a complicare la situazione col flash. Se la situazione è buona, la situazione è buona. Il flash lo utilizzi. Se hai in mente un'idea ben precisa di quello che vuoi ottenere a livello creativo, usi il flash per raggiungere quello scopo. Però è una roba pianificata a cui hai pensato. Cioè non è che sei in giro e dici, ma sì dai, mettiamo dentro anche il flash. Capito? Cioè secondo me la differenza è questa. Poi comunque se le condizioni sono buone, nel commento si parla di condizioni buone, bisogna domandarsi tutto lo sbattimento per raggiungere il flash quanto mi dà in più. Perché se le condizioni sono già buone magari veniva già benissimo così. Prossima domanda, e ragazzi ci avviciniamo alla fine perché questi video vengono sempre infiniti. Puoi spiegare in parole molto semplici la gamma dinamica? In parole molto semplici non lo so, ma ci proverò. Guardate questa immagine. Vedete, e io so per certo che quest'area del mio incarnato è esposta correttamente perché c'è la zebra impostata e quindi io vedo che qui c'è la zebra monitor, quindi qui è esposta correttamente. Qui è un po' scura l'immagine, è un po' troppo scura. Però la mia fotocamera è perfettamente in grado di gestire questa zona così chiara e questa zona così scura. Ora guardate la lampadina. Il bulbo della lampadina invece è bruciato. Quindi il bulbo della lampadina è fuori gamma. Certe parti qui del nero più profondo, anche queste sono fuori gamma. Che cosa significa questo? Significa che la mia macchina fotografica può registrare un'ombra di una certa profondità e una luce di una certa profondità. Se io ho un'ombra ancora più scura o una luce ancora più chiara, quei dettagli vengono persi. La gamma dinamica di una macchina fotografica è il range che questa macchina è in grado di catturare, quindi tra massime luci e massime ombre, è il range che la macchina è in grado di catturare senza perdere dettagli. Delle ombre ancora più pronunciate o delle luci ancora più potenti sono fuori gamma. Questa è una cosa che io personalmente cerco sempre di evitare per quanto possibile, perché un fuori gamma, una parte bruciata, si percepisce, lo vedi che manca dettaglio in quella zona. Se è solo una lampadina, un lampione per strada o il sole, chi se ne frega, è normalissimo che quelle cose vengano bruciate perché nessuna macchina ha la gamma necessaria per catturare tutte le scene. Certo che se io avessi perdita di dettaglio qua, quello sarebbe un errore gravissimo. Se io avessi perdita di dettaglio nella zona in ombra della mia faccia, anche quello sarebbe un errore mica da ridere. Quindi la gamma dinamica è una caratteristica dei nostri sensori. Noi dobbiamo imparare a conoscerla in maniera tale da decidere dove ubicarla, perché se noi abbiamo abbastanza gamma da riprendere la parte illuminata correttamente, ma non abbastanza gamma da riprendere la parte in ombra, possiamo pensare di far girare il nostro soggetto verso la luce così da avere quantomeno tutta la porzione che ci interessa in luce. A quel punto perdiamo informazioni sulla nunca ma fa niente. Sono cose da sapere, si imparano man mano, istintivamente, anche chi non la sa questa cosa di solito la zecca lo stesso perché lo vedi il risultato come viene, quindi di solito ci si azzecca. Spero di essere stato più semplice possibile. Passiamo all'ultimo commento, anche qui ve ne leggo un sunto perché è molto lungo. Sto cercando di passare da amatrice a professionista e per adesso ho fatto solo un paio di servizi ad amici, un ristorante e un residence, gratuiti ovviamente perché mi sono proposta io, che poi ho montato e lavorato coi piani ad obbi. Sono abbastanza contenta perché secondo quello che dici mi sono indirizzata sulla strada che pare giusta. Tutto sta ad ingranare. Io per adesso non ho preso nessun corso perché avendo ancora poche sostanze da investire preferisco investire sull'attrezzatura e fare approfondimenti via YouTube anche perché sono decenni che scatto fotografie e solo adesso in tarda età sono riuscito ad avanzare personalmente e capire che è quello che voglio fare professionalmente. Spero di riuscire. Ho una professione che mi lascia dei giorni liberi e tutto sommato, anche se impegnativa, turismo a Firenze e riesco a far collimare tutto. Non avere un corso già prestabilito mi ha anche aiutato a strutturarmi meglio perché mi sono dovuto dare da fare per capire il funzionamento di un dispositivo elaborato come una mirrorless. Applico la teoria di volta in volta, argomento per argomento. Dunque, non è una vera e propria domanda, però ti vado a rispondere lo stesso perché è molto interessante questa cosa. Innanzitutto io credo che non sia mai troppo tardi per cominciare perché la fotografia una volta era a pannaggio dei ricchi, cioè la fotografia proprio come la pittura, una volta chi è che si faceva fare il retrato dal pittore? Per i ricchi. Ed era una questione di status. Se potevi permetterti un dipinto che era una roba inutile, vuol dire che stavi veramente bene, perché solo uno che stava veramente bene poteva buttare soldi nel lusso, diciamo. Quando è arrivata la fotografia è stata di nuovo a pannaggio dei ricchi, perché anche se veniva il fotografo invece del pittore, comunque solo i ricchi potevano buttare soldi per farsi fare una foto che è una cosa inutile, non ti dava da mangiare né niente. Oggi è diverso, oggi le foto le facciamo tutti con queste trappole qui, poi spesso fanno schifo, però le facciamo comunque tutti. La possibilità di trasformarla in una professione è una cosa che secondo me non ha età con certi limiti, perché io per esempio mi rendo conto che io non potrò farlo per sempre il mio lavoro, così come lo sto facendo adesso. È perché io mi sto ammazzando la schiena a portare sempre in giro robe pesanti, sacche, borse, e poi torno a casa la sera che ho la schiena distrutta. Quindi è un lavoro che secondo me per certi versi non ha età, per certi altri non puoi fare per sempre. Però se riesci a organizzarti in maniera tale da lavorare leggera, e la mirrorless in questo ti ha vantaggio, perché è più leggera delle strumentazioni che c'erano prima, diciamo che il punto di partenza non è male. Per quanto riguarda l'organizzazione del tuo lavoro, io non do consigli perché non ne do, perché ogni caso è diverso, però ti dico cosa mi viene in mente. Non investire in corsi per investire sulla strumentazione può essere un rischio, e ti dico perché. Se tu non conosci le basi di tutto, compri della roba che non conosci e compri della roba che magari non ti serve. Non solo, ma magari compri della roba pensando che ti serva a raggiungere un certo risultato, non conoscendo la teoria, non sai che quel risultato potevi raggiungerlo anche senza quella cosa che hai comprato. Quindi rischia di essere uno spreco di soldi. Io il consiglio che mi sento di dare è va bene comprare l'indispensabile. Ovviamente se tu hai comprato la fotocamera e sei senza obiettivo, non è che ti dico vai a lavorare senza obiettivo. Compra l'indispensabile, però non continuare a comprare roba. Una volta che dici adesso ho una macchina fotografica con un obiettivo tutto fare, basta. Adesso investi magari qualcosina di più informazione, non necessariamente su YouTube, e anzi, qui su YouTube sono spizzichi e bocconi, perché qui bisogna fare i contenuti che intrattengano anche. Se ti compri dei corsi seri, impari magari qualcosina di più. Io consiglio sempre i corsi di Charlie Borland su Udemy. È stato uno dei corsi più belli che io abbia mai fatto, non te lo regalano, però secondo me vale assolutamente la pena. Charlie Borland è un fotografo americano che lavora da mille anni in questo settore e ha fatto tutto e da lui puoi imparare qualsiasi cosa in un corso solo. Quindi veramente ben fatto. Secondo me quello è il modo migliore di procedere, perché una volta che ti sono chiari certi procedimenti, una volta che sai come si fanno certe cose, non comprerai più roba sbagliata, cercando di scoprire se quella roba ti avvantaggia oppure no. Che è quello che è successo a me. Io ho comprato un sacco di roba senza sapere se mi serviva o no. L'ho comprata perché ho detto, ah figata, compriamo l'obiettivo macro. Quando lo uso l'obiettivo macro? Io non lo uso mai. Lo uso per fare roba mia, lo uso per giocare, per divertirmi. È bellissimo, lo adoro, ma per lavoro l'avrò usato due volte in dieci anni. Quindi è veramente importante capire che cosa ci serve e che cosa no, perché altrimenti compriamo la roba perché ci piace. Però se lo stiamo facendo per lavorare può essere controproducente, può portarci a un certo punto a dire, va bene, ho sbagliato, adesso devo rivenderla la roba ed è un peccato. Bene amici, io mi fermo qui perché questi video vengono sempre lunghissimi, come detto, spero di aver dato un po' di pillole valide per tutti, ma soprattutto per chi mi aveva lasciato i commenti. Quindi vi invito come sempre a iscrivervi al canale perché chi si iscrive poi avrà la precedenza nelle risposte ovviamente e vi ricordo anche che rispondo con degli shorts verticali, quindi se vi iscrivete poi non andate a perderveli. Io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro preziosissimo tempo sul mio canale e vi do appuntamento come sempre al prossimo video.